Ancora sangue sulle strade sarde, un tragico incidente stradale si è verificato intorno alle 15 sulla strada statale 131 bis all'ingresso di tiesi causando la morte di un giovane. A perdere la vita Francesco Pintore, 22 anni, originario di Borutta. Il giovane alla guida di una lancia Y per cause ancora ad accertare ha perso il controllo del veicolo finendo la sua corsa contro il muro di recinzione di una concessionaria. L'impatto è stato violento e non gli ha lasciato scampo. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 di Sassari che purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto l'elisso corso, i vigili del fuoco di Sassari e i carabinieri della compagnia di Bonorva che hanno eseguito rilievi di legge e stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.